Vittorio Feltri è da oltre 20 anni una delle voci più autorevoli e allo stesso tempo controverse del panorama giornalistico italiano. Negli anni ha diretto i principali quotidiani di centrodestra ed è una presenza fissa in tanti programmi tv. Nel 2021 ha ceduto alle lusinghe della politica, è stato eletto prima consigliere comunale a Milano e da febbraio 2023 è consigliere regionale della Lombardia per Fratelli d'Italia. Abbiamo parlato con lui di questa sua nuova doppia vita da giornalista e politico. Direttore, lei oggi è il direttore di Libero e consigliere regionale. Si sente più un politico o più un giornalista? Io peraltro mi sono dimesso dall'ordine dei giornalisti, che qui non sono più giornalista finalmente, che era una cosa che veramente mi infastidiva, perché l'ordine dei giornalisti anziché tutelare la libertà degli iscritti, quindi dei giornalisti, la comprimeva. L'elezione a consigliere regionale è la seconda in pochi anni dopo quella alle comunali di Milano. Come l'ha convinta Giorgia Meloni a candidarsi? Io sono amico da anni di Giorgia Meloni, per cui chiacchierando mi ha detto perché non ti candidi, non mi sono candidato perché la Meloni mi è molto simpatica. Trovo anche che sia brava, basta vedere quello che sta facendo. Il suo nome è stato fatto anche perché in Fratelli d'Italia mancano dei big spendibili nelle elezioni in cui bisogna mettere le preferenze. L'anno prossimo ci sono le europee, lei pensa di candidarsi. Pensa che Giorgia Meloni glielo chiederà? Me ne guardo meno. Se Giorgia me lo chiede, io sarò costretto a dire di lasciarmi libero perché non me la sento di viaggiare in aereo, di andare a rompermi le balle di Asterasburgo, a Bruxelles. Bruxelles non è male, poi si mangia anche abbastanza bene, però io ho 80 anni. In tanti anni al giornale Berlusconi le ha mai chiesto di candidarsi? E se sì, come si fa a dire no a Berlusconi? Sì, sì, sì. Mi chiese anche alle penultime politiche, mi chiese di fare il senatore, ma io rifiutai con una motivazione molto pratica, dicendogli che non me lo potevo permettere perché avrei guadagnato molto meno di quello che guadagno facendo il mio mestiere. E lui si è messo a ridere e quindi mi ha anche approvato in certo senso. Anche perché quando tu con Berlusconi parli di soldi, lui è rispettosissimo. Lei è sempre stato una voce fuori dal coro nel panorama giornalistico. Si sente anche un po' una pota della politica? Sì, sì. Io infatti non sono ideologizzato. La mia simpatia per Fratelli d'Italia nasce dal fatto che c'è un sottofondo di conservatorismo che mi trova d'accordo, perché anch'io sono un conservatore in un paese in cui non c'è un cazzo da conservare. Tanti giornalisti negli ultimi anni sono entrati in politica. Pensa che la commissione fra giornalismo e politica porti un valore aggiunto nelle istituzioni oppure che rischi di essere un danno per il mondo dell'informazione? No, non è né un vantaggio né un danno. Certamente non mi pare che nella categoria dei giornalisti ci siano personalità così valide da poter aggiungere qualche cosa a questa politichetta che tutti conosciamo. Lei però si sente di dare un valore aggiunto? Beh, adesso non vorrei peccare di presunzione. Cercherò di fare almeno una cosa. Ho già fatto un bel programma che riguarda le case. I vecchi è sbagliato dopo i 70 anni che paghino l'affitto nelle case popolari, perché questi poveracci già hanno una pensione magra, l'aumento diciamo così dei generi alimentari c'è stato, la pensione invece è rimasta piccola, quindi non sono in grado di pagare l'affitto. Quando uno ha compiuto i 70 anni non deve più pagare. Dopodiché c'è un'altra questione, le forze dell'ordine. Io per esempio ho la scorta e c'è uno dei miei carabinieri che ogni giorno viene da Bergamo con la macchina, perché qui non riesci a trovarsi una casa alla sua portata per quanto riguarda l'affitto e quindi tu mi capisci che chi deve fare un servizio pubblico a Milano deve stare a Milano e quindi diamo una casa popolare a prezzi accessibili a questa gente, perché se non aiutiamo le forze dell'ordine poi evidentemente le forze dell'ordine non sono in grado di fare bene il loro lavoro. Direttore, perché a 79 anni continua a lavorare così tanto? Prima aveva solo il giornalismo, adesso anche la politica, ma chi glielo fa fare? Sì, però no, voglio dire, parliamoci chiaro, diciamo la verità, fare politico significa fare poco, poco o nulla e quindi fa il caso mio. Mentre invece qui vengo tutti i giorni anche perché piuttosto che stare a casa con mia moglie sono disposto a fare anche il manovale. Si sente più un politico o più un giornalista? A posto, devo solo far stamminare. Mi sento così.